Tutto quello che c'è da sapere sul filone Plus Valenze. Siamo arrivati alla seconda puntata della trilogia della vecchia signora delle Plus Valenze, naturalmente andiamo a parlare di tutto quello che è successo dalla prima perquisizione svolta sia a Torino fino al meno 15, dato poi alla Juventus come penalizzazione, con le date e con i principali personaggi coinvolti. Detto questo, prima di partire col video vorrei ringraziarvi perché siete tanti, tanti e tanti quelli che commentano i miei video. Io cerco di rispondervi tutti e naturalmente ci vuole il tempo. Continuate, per chi di voi ancora non l'aveste fatto vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina e mettere un bel like a questo video perché è un bel video di informazioni e vi spiego come è successo tutto e come si è svolto in base alle date e ai personaggi così che anche chi non si è potuto informare almeno abbia le minime nozioni per poter capire che cosa è successo riguardo al processo Plus Valenze. Detto questo iscrivetevi al canale, ve l'ho già detto, condividete, condividete perché la cosa più importante è condividere il video in maniera che arrivi a più persone possibile perché altrimenti si sente sempre solo una campana suonare. Detto questo vi ringrazio perché lo farà, passiamo al video. Eravamo rimasti nel primo video al punto numero 10, ricordiamo che sono 33 brevi punti di assunti con le date che spiegano che cosa è successo fino ad oggi e noi ne abbiamo lette nell'ultimo video, anzi nel primo video ne abbiamo lette 10. Chi di voi non avesse visto il primo video, io ve lo metto poi alla fine come finestra, a fine del video, quindi voi ci potete cliccare se volete e andate direttamente lì. Eravamo arrivati al 15 aprile 2022, l'arrivo della sentenza, ricordiamo la sentenza per il caso Plus Valenze dove c'erano coinvolte 11 squadre tra cui la Juventus, la Sampdoria, il Napoli, Genova, Empoli, Parma, Pisa, Pescara, Novara, Chievo, Verona e Provercelli, tutte queste 11 squadre tra cui 59 dirigenti. Ebbene il 15 aprile come vi dicevo arriva la sentenza tutti prosciolti, questo era l'ultimo punto che avevamo letto. Quindi partiamo dall'undicesimo e il 22 aprile 2022 arrivano le motivazioni del proscioglimento per tutti gli indagati. Non esiste un metodo unico oggettivo per arrivare a stabilire il relativo valore di un calciatore e questa è la motivazione e la ragione per cui il Tribunale federale proscioglie le 11 società e i 59 dirigenti. Passiamo al 24 ottobre 2022, chiusura dell'indagine della Procura di Torino. È il giorno in cui la Procura di Torino nota notifica al CDA del club della chiusura delle indagini preliminari. I reati ipotizzati sono false comunicazioni sociali e false comunicazioni rivolte al mercato. L'accusa è quella di aver ostacolato l'autorità di controllo, la CONSOB in questo caso, le annualità prese in considerazione dall'istruttoria conclusa si sono tre, dal 2018 al 2020, quindi 2018, 2019 e 2020. Il 12 ottobre era stata respinta la richiesta di misure cautelari per i tre dirigenti tra cui il presidente Agnelli, che ricordiamo era stata chiesta dal PM la misura cautelare per paura che scappasse. Siamo al 25 ottobre 2022 e la Juve risponde con un comunicato dopo l'assoluzione. Il giorno dopo l'assoluzione la Juventus conferma di aver ricevuto dalla Procura di Torino la chiusura dell'indagine sul caso Plus Valencia. La replica arriva con una nota ufficiale della Juventus dove scrive di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme, quindi è che per i legali della Juventus si tratta di un tema che non registra nessuna novità, perché loro continuano a dirlo dal primo giorno di aver lavorato nel rispetto delle leggi e delle norme. Questo è sempre quello che dicono loro. Arriviamo al 28 novembre 2022. Le dimissioni di Agnelli e del CDA, quindi comincia a diventare calda la situazione. Dopo 12 anni alla guida del club, Andrea Agnelli si dimette da presidente. Al termine di un consiglio d'amministrazione straordinario del club, dove tutti i membri si sono dimessi in blocco, ce lo ricordiamo tutti, lo rende noto un comunicato dalla Juventus, Maurizio Scanavino, nuovo direttore generale, in attesa dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 27 dicembre. Agnelli, in una lettera a tutti i dipendenti, fa sapere che è venuta a mancare la compattezza di tutti e quindi è meglio abbandonare tutti assieme. Gianluca Ferrero è il nuovo presidente della Juventus e siamo al 28 novembre 2022. Passiamo al giorno dopo. 29 novembre 2023, la FGC apre l'inchiesta sui contratti. La Juventus era stata assolta anche in appello, ci teniamo a ricordare, lo dicono anche loro, nel procedimento federale sulle plusvalenze. Ma la procura della FGC, sulla base di recenti documenti arrivati da Torino, apre di nuovo il procedimento sulle parti relative agli accordi con i giocatori per l'integrazione degli stipendi. Nel codice di giustizia sportiva, l'articolo di riferimento è il 31, non il 4, il 31, ricordiamo i numeri, che riguarda la violazione in materia gestionale ed economica. Sono 60 i giorni di tempo per la procura. Il termine scade a fine gennaio 2023. Questo è un dato non veritiero perché sono 30 i giorni per cui puoi fare ricorso, non 60. Sono stati prorogati a 60 perché chi ne si è fatto vivo dopo 53 giorni, se non sbaglio, 58 giorni. Quindi teoricamente sarebbe fuori il ricorso. Comunque, questo che vi ho dato l'ultimo un pochettino, non veritiero, a mio parere. Siamo al 30 novembre 2022. La procura ha richiesto di rinvio a giudizio per Agnelli e 11 dirigenti. Viene depositata in procura a Torino la richiesta di rinvio a giudizio dell'inchiesta sui conti della Juventus. Il provvedimento riguarda Andrea Agnelli e altre 11 persone che nelle precedenti settimane avevano ricevuto l'avviso di chiusura indagini. Si tratta di Pavel Nedved, Paratici, Re, Bertola, Cerrato, Gabasio, Arriva Bene, Roncaio, Vellano, Boschetti e Grossi. Compare anche il nome della Juventus come persona giuridica. Quindi tutto, praticamente tutto in massa, in blocco tutta la Juventus. Il primo dicembre 2022 la UEFA apre un'indagine, quindi siamo arrivati al primo dicembre. Lo annuncia il CFCB, il Club Financial Control Body, organo della UEFA. La prima camera del CFCB appunto ha aperto un'indagine nei confronti della Juventus FC per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario. L'inchiesta si concentrerà sulle presunte violazioni finanziarie recentemente rese pubbliche a seguito del procedimento condotto dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino. Quindi la Juventus, anche il CFCB, apre un'inchiesta contro la Juventus a detta loro secondo un controllo dalla Consob che poi sappiamo che non è stato proprio così perché la Consob va a controllare i conti ma non ha mai aperto l'inchiesta, mai aperto nessun tipo di... ha fatto solo un controllo interno. Queste sono le notizie che erano poi girate. Arriviamo sempre, sempre siamo al 2 dicembre 2022. Arrivano le famose intercettazioni che sono quelle che hanno stroncato la Juventus. Sono diverse quelle che vengono raccolte dalla Procura di Torino per l'inchiesta Prisma e trascritte nelle centinaia di pagine, io direi anche migliaia di pagine, dei fascicoli in mano ai PM. Sono state captate conversazioni tra l'ormai ex presidente bianconero Andrea Agnelli e il cugino John Elkan, presidente di Exer, ma anche con alcuni suoi dirigenti come Maurizio arriva bene. Non mancano le discussioni su modus operandi di pratici con altri dirigenti e i timori per le ispezioni della Consob. Quindi queste qua sono le intercettazioni che sarebbero uscite. Alcune, alcune motivazioni per le intercettazioni. Sempre 2 dicembre 2022 il CDA approva la modifica del progetto di bilancio del 2021-2022. Sappiamo che il CDA della Juventus è un'altra giornata importante per il CDA di missionario bianconero che si ritrova per votare le modifiche al bilancio dell'esercizio 2021-2022. registrata una perdita di 239,3 milioni di euro, inferiore rispetto al rosso di 254,4 milioni di euro annunciato a settembre, prima dei rilievi della Consob. Quindi loro, prima che arrivassero i rilievi della Consob, già avevano fatto una previsione di bilancio e prevedevano di essere sotto 254,4 milioni di euro. Invece poi alla fine erano sotto, tra virgolette, solo di 239,3, quindi meglio delle previsioni. Detto questo, dai revisori della Procura di Torino, il nuovo bilancio sarà sottoposto all'Assemblea degli azionisti il 27 dicembre. Naturalmente sappiamo che loro avevano approvato ma poi gli azionisti dovevano anche loro votare. Siamo al 13 dicembre 2022 e la Procura di Torino rinuncia ad appello su misure cautelari. Ricordiamo che avevano chiesto le misure cautelari per Agnelli. La Procura di Torino il 13 dicembre 2022 rinuncia all'appello contro la decisione del GIP che lo scorso 12 ottobre aveva respinto la richiesta di custodia di cautelare nei confronti di alcuni esponenti del club bianconero, tra cui i vertici della società. Intanto si attende ancora una data per la prima udienza preliminare. Eravamo al 23 dicembre e si parlava per i mesi chiesti per Agnelli. 19 dicembre 2022 il procedimento resta a Torino. La Juventus ha chiesto di spostare tutto a Roma o a Milano e questa è la decisione presa dalla Procura generale della Cassazione. Saranno i giudici torinesi quindi a decidere in merito alla richiesta degli avvocati dei bianconeri di spostare il processo a Milano. Quindi non se ne fa niente di spostare il processo a Milano. Punto numero 22. Siamo al 22 dicembre vicino a Natale. Ci hanno dato questa bella notizia. 2022, Plus Valenza e Procura FGC chiede la revocazione della sentenza. Si riapre il procedimento sportivo sul caso Plus Valenza a carico di 9 società e di 52 dirigenti. Ve l'avevo detto prima la società, andatevela a risentire. Oltre alla Juventus coinvolte Sampdoria, Provercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empole, Novara, Pescara. E' scomparso il Napoli. Il Napoli non c'è più. Hanno riaperto il procedimento verso tutti però il Napoli non c'è più. Il procuratore federale ritiene che nelle carte della Procura di Torino vi siano nuovi probanti elementi tali da rendere quindi fondata la richiesta di revocazione parziale della decisione presa dalla Corte federale d'appello lo scorso maggio quando furono tutti prosciolti e tutti mandati a casa. Si deciderà il 20 gennaio 2023 naturalmente. Quindi per tutte le squadre è stato di nuovo riaperto il processo. Per il Napoli non viene riaperto il processo. Siamo arrivati alla 22esima al 22esimo punto. 23esimo e poi ci salutiamo. Il video è un pochettino lungo ma le informazioni purtroppo sono fatte così. Non solo il nuovo filone plus valenze. 23esimo punto. Non solo il procuratore riscontra nelle carte della Procura di Torino delle nuove plus valenze che non erano quindi state considerate nel primo processo e su queste ha aperto una nuova indagine che coinvolge la Juventus ed altre società di cui però non viene fatto il nome. Si chiuderà, si deciderà il 22 febbraio. Quindi per la Juventus non solo si fa il nome ma si mette tutto sui giornali anche le intercettazioni. Per le altre squadre coinvolte che si sa chi sono perché naturalmente avete le carte non si fa il nome perché giustamente non si vuol fare cattiva pubblicità. Per oggi questo video finisce qua. È la seconda puntata della trilogia. La prossima sarà veramente spettacolare perché arriveremo al punto del meno 15 e poi vi darò la notizia bomba di cui vi ho tanto parlato. Se vi è piaciuto mettete un bel like. Chiedo scusa per la lunghezza del video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e condividete il più possibile. Io vi saluto. Ciao A presto.